caffè bitcoin oggi le news delle cripto in pillole benvenuto e benvenuta buon lunedì 19 luglio buon inizio settimana è un'altra settimana importante un'altra settimana estiva buon caffè buon tè qualsiasi cosa tu stia bevendo nel momento in cui puoi vedere questo video cosa vediamo oggi vediamo il mercato in generale defi pools fear and greed index tre notizie su coin telegraph guardiamo il prezzo del bitcoin che ieri abbiamo avuto una chiusura settimanale non eccitante e lasciamo 40 secondi di spazio al nostro sponsor e poi iniziamo subito lo sponsor di oggi è business box italia con la sua business box challenge che cos'è è la risposta ogni tuo dubbio sul digital marketing grazie alla business box challenge capirai una volta per tutte se il lavoro online fa per te e come iniziare a muovere i primi passi 28 giorni di video training ti guideranno per conoscere le basi del digital marketing e come intraprendere questo lavoro inizia ora questa sfida di 28 giorni e segui i training che sono tutti in italiano proprio come le altre sezioni di business box italia l'accademia e il mentor sei pronto per la sfida clicca il link qui sotto per iniziare da oggi la tua challenge al prezzo speciale di 47 euro via benissimo partiamo subito da qui quindi guardiamo il mercato in generale vediamo che negli ultimi sette nelle ultime 24 ore la maggior parte delle coin sono in rosso se non le stable coin la maggior parte alcune negli ultimi sette giorni sono in doppia cifra quindi ettirium meno 11 binance coin meno 9 vedremo un paio di notizie su binance cardano meno 13 la tendenza della quale noi parliamo da diverso tempo ovvero le colle al coin che performano peggio rispetto a bitcoin sta continuando avevano corso di più oggi stanno stornando di più la bitcoin dominance continua a crescere anche se lentamente però questo è l'effetto che vediamo in questo momento vediamo il defy pools che ha perso quasi un bilione di dollari locati rispetto alla scorsa settimana e lo vediamo esattamente dal dall'inizio di luglio siamo passati a 61 bilioni fino a 54 il dato odierno ave continua la sua dominance col 16.98 quasi 17 per cento di dominance defy pools index a 662.34 e vediamo che dopo ave come multichain lending cioè instadup compound curve maker uniswap e così via potete ve lo consiglio sempre lo lascio sempre sotto è interessante capire come si stanno muovendo anche in questa fase la parte defy fear and greed index leggermente meglio rispetto alla giornata di ieri ieri eravamo a 19 l'altro ieri eravamo a 15 c'è meno paura ci si aspettava un grande calo per questa storia del 18 di grayscale probabilmente la vedremo oggi perché apre poi oggi negli stati uniti nelle prossime ore e le prossime giornate sono assolutamente importanti vediamo tre notizie su coin telegraph e partiamo dalla prima il prezzo del bitcoin è destinato a rimbalzare btc va in corto circuito sulla resta anomalo di bitfinex del 25 per cento dopo i picchi record che cosa vuol dire la traduzione non è perfetta che il big wells ovvero le grandi balene su bitfinex stanno riducendo i loro short l'ultimo crollo negli short di bitfinex potrebbe seguire a un picco delle offerte spot di bitcoin ha fermato un analista e lo posso anche tra virgolette confermare solitamente quando questi grandi short si riducono il prezzo va leggermente verso l'alto ma non è una correlazione potrebbe finire oggi stesso quindi non dobbiamo tener conto di questo per fare i nostri acquisti e nostre vendite i ribassisti di bitcoin potrebbero fare attenzione a un potenziale colpo poiché il numero di posizioni corte quindi short con margine sullo scambio bitfinex è crollato del 25 per cento nel weekend vi lascio qui questo è un po il grafico delle bitcoin wells vedete che in questo momento sono leggermente in discesa ok questo hanno raggiunto un picco a metà giugno che ne avevano parlato un po tutti in questo momento sono un po in discesa in parole povere btc usd short rappresenta il numero di posizioni ribassiste con margine su bitfinex misurato in btc i trader prendono in prestito fondi da bigfinex e loro broker per scommettere su risultati ribassisti ovvero che il prezzo vada verso il basso per lo strumento btc usd detto questo gli ultimi dati mostrano che i trader hanno ridotto le loro posizioni ribassiste con leva finanziaria nel mercato bitcoin e questo è sicuramente un buon segno vi lascio l'articolo qua sotto se volete leggere completamente qui si ritorna a parlare del del grey scale bitcoin trust il 18 luglio oggi si sbloccano la prima parte 16.000 btc che poi in realtà era ieri e poi prende in considerazione quello che noi abbiamo già affrontato nel parliamo di bitcoin di giovedì ovvero quello che ha detto willy martedì scusate quello che ha detto willy who ovvero un cbtc premium così basso attira investitori e distoglie interesse per l'acquisto spot quindi si preferisce andare a investire in gbtc piuttosto che direttamente nello spot e questo secondo willy who era temporaneamente un dato bearish passiamo a binance questa è una notizia un po vecchia però è importante probabilmente tu che ci segui o qualcuno fra le persone che ci seguono hanno utilizzato come me questa opzione che binance ci aveva dato ovvero quella di comprare e vendere azioni in questo momento c'era tesla e coin queste azioni come se comprassimo le azioni sul mercato normale azioni tokenizzate non ha fornito alcune indicazioni sul motivo affermando che avrebbe spostato la sua attenzione commerciale su altre offerte di prodotti che cosa è successo binance interrompe le vendite di questi token nazionari immediatamente non è proprio immediatamente ed ecco perché lo voglio riportare alla vostra attenzione gli utenti che attualmente detengono token nazionari possono venderli o detenerli nei prossimi 90 giorni quindi non dobbiamo correre e venderli magari in perdita quindi gli utenti non saranno più in grado di vendere o chiudere manualmente le proprie posizioni dopo le 19.55 del 14 ottobre del 2021 successivamente tutte le posizioni dei token nazionali su binance saranno chiuse il giorno 15 di ottobre alle 13.30 automaticamente vengono chiuse quindi presta attenzione a questa cosa altro dato di binance importante è una notizia super recente binance brucia 390 milioni di token bnb e come dice ma i mercati non sembrano preoccuparsene binance ha distrutto bnb per un valore di 400 milioni di dollari nel suo sedicesimo evento trimestrale di token burn ma i mercati non ne vogliono sapere comunque questo è il bruciare token ovvero togliere token dalla supply e sempre fa sempre bene solitamente al prezzo normalmente in un mercato rialzista questa notizia sarebbe stata una notizia bomba il prezzo di bnb sarebbe schizzato oggi in questa fase di mercato no perché sono tutti molto attenti a qualsiasi tipo di movimento il principale exchange di criptovalute binance ha completato la sua sedicesima edizione trimestrale di binance coin distruggendo bnb per un valore di oltre 390 milioni di dollari questo è un piano che ha da un sacco di tempo quindi stanno portando avanti questo piano di continuare a bruciare token e questo è 400 milioni sono andati ovvero 1.296.728 token bnb anche qui se volete leggervi tutto l'articolo ve lo lascio qua sotto passiamo a questa notizia che anche questa è di sabato l'abbiamo accennata proprio sabato nel nostro parliamo di bitcoin live il fondatore di ave suggerisce di sviluppare twitter su ethereum jack dorsey ha annunciato all'inizio di questa settimana che square sta costruendo una nuova piattaforma open source per i servizi bitcoin di non custodia e qui il fondatore di ave ha detto ai suoi 90 mila followers di twitter che il suo protocollo dovrebbe creare twitter su ethereum dopo che jack dorsey ha affermato che stava sviluppando una nuova piattaforma di servizi finanziari incentrata sul bitcoin con sorprendenti somiglianze ad ave questo è un po' quello che ave lo vediamo sempre è leader in questo momento nella defi ave è emerso come uno dei protocolli defi più popolari sul mercato con una domanda per i suoi servizi in crescita tra gli investitori tradizionali come riportato da cointelegraph ave ha in programma di lanciare questo mese il mese di luglio una versione autorizzata della piattaforma solo per gli investitori istituzionali e i fondi bloccati in questo momento superano i 20 miliardi di dollari il piano di dorsey per portare defi su bitcoin segue un annuncio dell'inizio di giugno secondo cui square sta esplorando lo sviluppo di un portafoglio hardware btc open source l'imprenditore ha ribadito l'importanza dell'autocustodia e la necessità di accogliere nuovi utenti di criptovaluta attraverso la tecnologia mobile quindi qui si sta scatenando un po' quello di ave scrive a jack dorsey jack dorsey risponde l'annuncio più importante di questo di questo articolo è proprio questo no la parte più importante il piano di dorsey è di portare defi su bitcoin quindi sarà assolutamente interessante vedere quali sono gli sviluppi andiamo velocissimi al grafico questo è il grafico settimanale ahimè ieri abbiamo avuto la chiusura più bassa a 31.788 dell'anno sicuramente il 28 invece avevamo chiuso a 33.800 il 4 di gennaio avevamo chiuso a 38.170 quindi a rialzo qui si abbiamo avuto la chiusura più bassa dell'anno settimanale e siamo appoggiati o leggermente sotto dipende poi da come si guarda alla 50 periodi settimanali si vede che l'apertura è al di sotto di questa 50 moving average mi piace poco il fatto che abbia perso la 50 periodi settimanali questa che era il grande supporto settimanale che ne abbiamo parlato per 7 settimane di fila è stato perso e adesso l'ho trasformato e va trasformato in resistenza settimanale quindi stiamo a vedere se in questa settimana il prezzo sarà in grado di ritornarci sopra o continuerà la sua discesa verso il basso vediamo velocissimo anche nel giornaliero venerdì abbiamo messo a segno questa chiusura più bassa quindi è un basso più basso ed è al livello dobbiamo tornare al inizio metà gennaio continua anche nel daily la sua discesa lenta e continua anche qui abbiamo abbiamo recuperato leggermente questo basso però lo stiamo riperdendo in questo momento una cosa che vi abbiamo fatto notare noi stiamo tenendo controllato due trend line sul RSI giornaliero innanzitutto la prima questo trend che è iniziato proprio all'inizio di gennaio discendente dell'RSI nel momento in cui romperà questa trend line secondo il nostro modesto parere di vista non financial advice sarà un buon momento per pensare di aggiungere o riacquistare o iniziare ad acquistare bitcoin ma allo stesso tempo avevamo tracciato anche questa piccola trend line che partiva poi dal 19 di maggio il grande crollo e il bitcoin stava continuamente salendo e quindi stava creando una divergenza rispetto al prezzo ahimè questa divergenza come potete vedere in questo lato è saltata ovvero l'RSI ha cominciato di nuovo a scendere rompendo questa trend line e sicuramente è un'altra cosa da tenere in considerazione Ethereum anche lui come bitcoin è in questo momento ha questo supporto importantissimo abbiamo già toccato nel giornaliero una, due, tre volte più queste volte qua indietro per ora ha sempre fatto da supporto come abbiamo detto ripetute volte perso questo supporto il prossimo che chiama l'attenzione è intorno ai 1400 dollari come ritorno in video non abbiamo altre cose da aggiungere ti ringraziamo per aver seguito Caffè Bitcoin oggi le news delle cripto in pillole lasciaci un bel like se ti piace questo contenuto condividilo, commenta è importante per noi sapere se questi contenuti ti piacciono e vuoi che continuiamo a farli anche in questa fase un po' rallentata del mercato e ci vediamo domani con Parliamo di Bitcoin ciao da Ivan Eroldi fai una buona settimana